In bicicletta? Sì, è molto più bello invece della macchina. Amo la bicicletta da quando ero bambino, è sempre stata la mia passione. Fortemente voluto dal Ministero dell'Ambiente, ecco la prima giornata nazionale sulle due ruote. Centri storici chiusi alle auto e tutti in bici, da Milano a Palermo, Roma, Torino, Bologna, Genova. E c'è anche chi ha rispolverato il tandem per la festa nazionale della bicicletta, Milano capitale, tutti su due ruote per riscoprire la città. L'anno scorso ho fatto 4.110. Una giornata all'insegna del divertimento con caccia al tesoro, mostri, escursioni, tante iniziative alla scoperta del mezzo di trasporto più ecologico ed antico, ma sempre attuale. A Milano da qualche mese le biciclette si possono anche prendere così, con un sistema di bike sharing che ha tante stazioni di parcheggio in punti strategici della città. Sono stati un po' rinforzati sia per far fronte al servizio del bike sharing, che sarà comunque attivo, sia per la caccia al tesoro. Una giornata che diventa anche una buona occasione per gli amanti delle due ruote per far sentire la loro voce e chiedere condizioni di viabilità migliori. Non siamo tutelati in nessun modo, se non quelle poche piste ciclabili, nel senso che le hanno fatte, però su alcune zone spezzate, con tutti i rischi. Ampia oggi la pagina.